Gentili telespettatori, buona giornata. Bassetti contro il premio Nobel parisi. Parliamo sempre di Covid e mascherine. Dice che è assurdo ridurre l'obbligo di mascherina? Quando ci sono i mondiali diventano tutti CT della Nazionale. Allora, sul fatto che quando ci sono i mondiali sono tutti i commissari tecnici della Nazionale, questo è vero. Ma chi dice questo a chi? Parliamo del Nobel parisi, dice Bassetti, dice che è assurdo ridurre l'obbligo della mascherina. Io penso che l'oscillazione del neutrino non sia un fenomeno quanto meccanico, per cui un neutrino creato con un certo sapore non può assumere un sapore diverso al passare del tempo. È la mia opinione. Così dice Matteo Bassetti, che replica così su Twitter, alle affermazioni di Giorgio Parisi in tema mascherine. Un modo scherzoso per invitare tutti a parlare di argomenti di cui hanno conoscenza specifica. È un po' come quando durante i mondiali o gli europei di calcio tutti fanno la formazione, tutti sono CT, commissari tecnici. Tutti dicono che deve giocare tizio o caio senza nessuna competenza. Il mio è un richiamo forte alle competenze. Nutro un rispetto straordinario per il fisico Parisi, premio Nobel. Dice orgoglio nazionale, ma qualche volta si può anche dire che non si risponde di argomenti non conosciuti. Per Bassetti è assurdo quello che sta succedendo in Italia, dove di mascherine soprattutto parlano veramente tutti come grandi esperti. Grazie a tutti e arrivederci.